Benvenuti su Offstage, un programma offerto da Danza Italia. Ricordiamo che il marchio Danza Italia, che trovate sul sito www.danzaitalia.it, registra il più alto numero di visualizzazioni web e si occupa di organizzazioni eventi e tv in streaming. Benvenuti cari amici di Offstage, ad una nuova puntata. Oggi saranno qui con noi due nuovi ospiti, infatti avremo direttamente da Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale e Caroline Smith. E se avete voglia di scrivere o fare domande ai nostri ospiti, potete contattarci all'indirizzo mail info-danzaitalia.it oppure facebook.com slash danzaitalia oppure shorn.it slash danzaitalia. E dopo avervi dato tutti i nostri contatti, andiamo a conoscere la nostra prima ospita in diretta telefonica con noi, Caroline Smith. Ciao amici di Offstage, oggi è qui con noi uno dei nostri importanti ospiti, Caroline Smith. Vedo Mario un po' emozionato, vero Mario? Sì, molto. Beh, abbiamo uno dei nomi internazionali della danza sportiva, possiamo dire così. Sì, è conosciuta in tutto il mondo. Ciao Caroline. Ciao. Ciao, ciao. Allora Caroline, come dicevamo prima, si è conosciuta in tutto il mondo, anche e soprattutto con l'avvento di Ballando con le Stelle. Però torniamo un po' indietro negli anni e noi siamo curiosi di sapere, tu che bambina eri da piccola? Esattamente come sono oggi, in vita energetica. Cioè, le scrivisci un po'. Ma guarda, mia madre mi ha portato in giro dappertutto per farmi sport, danza, cose che poteva stancarmi, perché sennò aveva un tipo delle batterie dura, c'è. Cioè, non ero più da un viva mai, ero sempre energetica, parlava, cantava, ballava e non stava mai in vita. Dura, cioè, l'enzuola. Esatto. Eh sì. E ma senti un po', parlando anche della tua galera artistica, anche sulla tua biografia abbiamo letto che, non so, parli comunque di allievi che nonostante abbiano studiato con te per poco tempo, siano diventati comunque dei campioni. Quindi secondo te, ad esempio, Mario e Dio, possiamo, abbiamo qualche speranza con te? Oddio, allora ascolta, io sono anche molto famosa a fare i miracoli. E' un po' di lavoro, ma sicuramente riesco a fare qualcosa con Mario. Eh, ma infatti è con me che le devo fare lezioni private. Eh no, anche con me. Ma tu già hai pagati lì, scusami, eh. Lasciami almeno la sera. A me però, Caroline ti ha definito un miracolo, eh, non so, se... No, assolutamente non gli ha detto che può fare i miracoli, eh, non ha detto che sono un miracolo, vero? Eh, guarda, faccio miracoli, vediamo che, quelli che posso fare. Eh, infatti i miracoli ne fatti proprio a Ballando con le stede che è iniziato nel 2007, ma i momenti più belli quali sono stati? Uh, durante il Ballando, oh, mamma mia, che ci sono stati tanti. Sì. Ho scoperto tanti nuovi amici durante il Ballando. All'inizio, che quando non lo sai chi è il VIP, poi inizio a conoscere un pochettino, eh, come tutta la gente anche a casa, io non conoscevo loro personalmente, poi quando vai dentro il personale, ti dico, la gente lì, si vede che sono gente umane come noi, capito? Sì. Poi Bobieri che mi ha fatto proprio crepare durante tutto l'anno scorso, perché lì abbiamo veramente fatto miracoli. Ma è molto, molto bello come esperienza. Vabbè, possiamo dire che comunque sei un po' un giudice inamovibile. Eh, ti sei trovata comunque a giudicare non soltanto gli attivi ma anche i professionisti, giusto? Quindi, non so, hai avuto un po' di difficoltà a giudicare anche i professionisti? Ma, guarda, non tanto, poi se mi dica invece chi e poi con chi gareggiono, no, cioè, non ho difficoltà perché ho i miei principi ben ben precisi e faccio le mie scelte con qualcuno. Vabbè, qualcuno che ti è piaciuto un po' di meno, certo. No, non si dice mai questo. No. Senti, qualcuno che ti è piaciuto, qualcuno che è meno piaciuto. Sì, esatto. Io invece voglio ritornare un po' ai pippo, no? Visto che ne conosci tanti, ci domandavamo prima, scusate, dentro le quinti, appunto se tu ci potevi far conoscere qualcuno. Eh, chi vuoi conoscere? Non so, ma Marilla da Tangello, perché Sergio e Lorenzo avrebbero conoscere qualche calciatore, ecco. Ma guarda, Anna è una persona, è molto molto facile da parlare insieme, è veramente una ragazza semplice, anche se tanti pensi che non è semplice. È veramente adorabile, ho parlato con lei questa mattina, è una ragazza splendida. Eh, Caroline, senti una cosa, andando ancora nella sfera privata, Mario mi ha svelato un tuo piccolo segreto, piccolino piccolino, anche se io sinceramente non ho idea di come abbia fatto a scoprire questa roba. Però ti ha dato la roba, eh, ti ha dato la roba, quindi... e ha detto che tu hai un sacco di tatuaggi, e magari anche qualcuno un po' più nascosto, è vero? Ma chi ti ha detto questa roba qua? L'ho detto io! Sì, ho tanti tatuaggi. Ne sono nove, è vero? Eh, oddio che ho... non mi ricordo più tantissimi. Cioè, se la ricorda Mario, però... Mi sono rimasti impressi per questo. Allora, ti dico che la prima che ho fatto, tanti anni fa, è una roba, sulla chiappa mia sinistra. Io mi ricordavo proprio di quella. Difficile da comunicare. Ma è molto bello. Ma ti spiego, quando vado dal medico, che devo farmi, per esempio, non so, i controlli, c'è la prima cosa fa, oh mamma mia, che bel fiore, i ragazzi. E fanno sempre i commenti. Poi, sulla gamba destra, sulla caviglia, ho Betty Boop. Perché Betty Boop per me è una cosa di gioia, di felicità. Cioè, quasi 35 anni mi faccio la collezione della roba di Betty Boop. E poi, oddio, sul polso c'è tante... Cioè, sul polso finito non ho tante cose scritte. No, vabbè, Carlo, ma in realtà era giusto per far sapere l'orenzo. Però non ti preoccupare, io li che conosco tutti, eh. Sì, Mario, non sei diventato un po', praticamente. Allora, ritorniamo un po' a Seri. E io, visto che tu, appunto, sul nome internazionale, volevo sapere proprio un piccolo consiglio a chi si sta avvicinando al mondo dello spettacolo. Ok, un consiglio. Allora, uno, tenere i piedi ben, ben, per te. Proprio non montare la testa. Essere sempre umile. Imparare il meglio possibile il mestiere che decide da fare. E essere politicamente correndo. Che significa essere sempre gentile con tutti. Ok, ti ringraziamo per questo... Imparare il meglio di darmi gli stessi. Preciso consiglio, sì, esatto. Infatti, io che sono un amico di Caroline, il prossimo Ballando con le stelle sarò con lei, giusto? Sì. Non vediamo l'ora. Allora, dopo di te ci sarà un altro ospite di Ballando con le stelle, che è Simone di Pasquale. Noi siamo curiosi, vogliamo chiederti, se tu fossi al nostro posto, che tipo di domanda gli faresti? Oh, allora, la prima domanda che devi chiedere è quante relazioni hai avuto con il suo picco durante parlare con le stelle? Ok, ce la sentiamo? Sì, infatti. Ricordiamocela. E poi qualche altra domanda invece? Come sta andando la sua nuova avventura, come fa il personal coach per la danza, perché è un progetto molto molto bello, che sta facendo. Ok, ok, quindi non ti preoccupare, poi dopo ti faremo sapere tutte le risposte, così io poi magari posso telefonarti anche un'altra volta, in privato. Ma io non sto aspettando altro, praticamente sì, ho notato. Va bene, allora, amici di Offstage, il nostro tempo con Karen Smith purtroppo è terminato. Vi salutiamo, emozionati. Emozionati, un saluto anche a Karen Smith. Ciao, grazie. Grazie, grazie, ciao, ciao ragazzi, ciao. E dopo Karen Smith abbiamo un altro personaggio della danza sportiva, che è un campione, è stato anche vincitore di Ballando con le stelle, e noi diamo il benvenuto a Simone Di Pasquale. Ciao Simone. Ciao ragazzi. Tutto bene? Tutto bene, voi? Tutto a posto. Abbastanza, grazie. Ballate, 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 si balla? Sì, sì. Assolutamente sì, siamo dei ballerini conduttori. Non ci perdiamo mai. Stupendo. Allora Simone, partiamo con una piccola domanda. Sicuramente sei un grande campione della danza sportiva italiana, e ovviamente la domanda surge spontanea. In che modo, e anche a che età ti sei avvicinato al mondo della danza sportiva? Allora io ho iniziato a ballare all'età di 9 anni, spinto dalla passione dei miei genitori che ballavano a livello chiaramente amatoriale. E quindi diciamo l'oro ti hanno spinto? Ma sì, nel senso, ma è nata un po' in maniera naturale, nel senso li seguivo sempre nei vari festeggiamenti, vedevano insomma che mi muovevo e mi divertivo a tempo di musica, e mi hanno poi iscritto per gioco ad una scuola di danza, e da lì poi è partito tutto. Esatto. È partito tutto, sì, infatti sei diventato un campione, hai vinto ballando con le stelle, ma cosa ha significato per te vincerlo? Scusami, che cosa? Allora, sei diventato un campione, hai vinto ballando con le stelle, che ricordi di questa esperienza? Ma, allora, ballando è stata un'esperienza arrivata già in un momento abbastanza importante della mia carriera come competitore, perché ho fatto competizioni per molti anni con Natalia Titova, e diciamo in un momento anche molto positivo ci arrivò un po' di chieste che accettavamo, così insomma un po' incoscienti partecipavamo a questo programma, poi vinci e sicuramente in una vincita inaspettata, un'esperienza inaspettata, delle conseguenze inaspettate, che però mi hanno dato l'opportunità di ampliare molto di più, diciamo, un po' le mie possibilità, le mie conoscenze, i miei rapporti, perché insomma ci portavano al di fuori della competizione. Ho capito. Mi sono sempre molto in legame con il ballo, con la danza sportiva. Allora, prima abbiamo intervistato Caroline Smith, che appunto è una tua amica, giusto? Sì, sì, sì. Infatti lei ci ha proprio chiesto di chiederti quante relazioni hai avuto a Ballando con le Stelle. È colpa su quale, no? Che carina Carol. Che carina, che carina Carol. Relazioni, beh allora diciamo che già il termine relazione di per sé non è che deve per forza portare, no? ad un finale, che è quello che pensa Carol. Io ho avuto una relazione, perché relazione è... Ti ho una relazione quando tu entri in contatto con una persona e nascono chiaramente degli scatti, non nasce, ma nasce un'interazione. Quindi la mia relazione è stata interessante con tutte le compagne di Ballando con le Stelle. È una relazione diversa l'una dall'altra, perché sono persone completamente diverse, insomma, sono proprio carattere. Simone, scusami. È proprio quello il bello poi. Visto che sono donna, diciamo, un piccolo gossip. Ti volevo dire, infatti, proprio tra queste relazioni, ce n'è una in particolare che poi sia tu che lei comunque avete tenuto a smentire, possiamo dire. Non so, parlando di questa relazione, comunque possiamo anche parlare un po' del fatto che ti possano piacere le donne più mature. Scusami, non ho capito il finale. Ti dicevo, parlando di questo presunto flirt, potremmo dire anche che un po' ti piacciono le donne più mature. Si, vuole, perché ogni anno ce l'è uno. Eh, sì. Però parlaci un po' anche della tua donna ideale. Non so, se avesse un dieci anni, più di te sarebbe meglio. Se avesse un dieci anni di me sarebbe meglio, ma onestamente l'età non conta. Si. Sicuramente sono attratto da donne più concrete, donne di una certa, con un certo carattere, con un certo potere decisionale, non la donna che ti sta dietro. Così, insomma, ecco, una donna una donna di carattere. Una donna alla pari, sì, sì. Simone, adesso attualmente nel mondo dello spettacolo c'è qualche donna che ti attira particolarmente? Ma no, sinceramente no. Ah, nessuno. No, perché purtroppo il mondo dello spettacolo poi condiziona un po', diciamo così, i personaggi, quindi si rendono un po' al di sopra delle righe. Un po' al di sopra delle righe? Beh, sì, perdo un po' il contatto. Si tende, si tende a perdere il contatto con la verità, con la realtà, quindi i carattere vengono un po' falsati, ma non per cattiveria, perché alcune volte alcune dinamiche ti portano a distaccarti appunto da un normale comportamento e allora, ecco, diciamo che quegli atteggiamenti non sono proprio per me, diciamo, sì, sì, non mi interessano, insomma. Non mi coinvolgono. Tornando, diciamo, alla trasmissione, possiamo dire che, non so, magari se ci racconti qualche episodio che ti è rimasto particolarmente, non so, impresso, oppure anche divertente che magari anche non è andato in tv? Hai bisogni divertenti? Per fortuna è stata, quest'ultima esperienza, ma anche le altre, molto divertente, perché Lucrezia è una donna di una, diciamo, altra mentale notevole, di una grande maturità, ma soprattutto è una grande proprietà che sta a lavorare. Quindi abbiamo trovato una grande alchimia insieme. Ci siamo divertiti tantissimo. Io e lei ci siamo veramente divertiti molto. Sicuramente l'esperienza più divertente che mi rimane impresso è proprio quando abbiamo deciso di darci questo bacio, che chiaramente, insomma, era inaspettato, nessuno lo sapeva. Ci siamo divertiti un po' con tutte le reazioni, no? Eh, certo, avete fatto un po' di scattore. Ma sì, bisogna fare un bacio, poi. Allora, Simone, ci sono progetti futuri professionali? Allora, progetti, per fortuna sì, ce ne sono, e parecchi, quindi sono proprio questi progetti che mi tengono sempre molto, diciamo, in vita, no? Vitale, ecco, diciamo così. Ho un grande successo con questa attività del personal dancer, cioè il maestro che balla direttamente con il proprio allievo o con la propria allieva. con una compagnia di pallerini che collaborano con me, che sono anche, fanno anche parte del canto di ballando e con loro portiamo avanti questo progetto. Ah, bello! Insieme a loro organizzo eventi, appunto come questo evento che ho fatto a Pasqua con la Grimaldi Lines, dove abbiamo coinvolto tutti quanti i passeggeri in lezioni collettive, in spettacolo, eccetera, eccetera. ne organizzerò un altro dal 31 di agosto a 6 di settembre con MSC e la finalità è quella appunto di coinvolgere tutti i passeggeri nello spettacolo finale, quindi faremo un'audizione, i silenzionati verrà una musicoppe con l'impersonal, preparare una coreografia e poi il tutto insomma contito con musica, con canto, infatti collabora con noi anche il tenore del gruppo di ballando che è Mike Imbrona, quindi abbiamo formato un vero e proprio team, una squadra che va in giro e fa ballare e fa divertire tantissimo la gente. Ah, bello! Complimenti per questa ria innovativa! E nell'organizzazione di eventi. Bene, allora, amici di offstage anche con il grande Simone di Pasquale il tempo purtroppo è terminato, salutiamo questo grande campione nostrano, ciao Simone! Ciao Simone, grazie! Vi ringrazio e volevo invitare tutti quanti gli ascoltatori di, se è possibile, visitare il mio sito www.simonedipasquale.it Ok, perfetto! Ciao, grazie! Ciao Simone! Ciao, ciao! Bene amici, ahimè purtroppo le interviste sono finite. infatti vi aspettiamo alla prossima puntata con tantissimi nuovi ospiti. A presto, ciao! Ciao!